Monza Lazio, Lamo Viola, Marcenaro ma dà troppi gialli. Monza Lazio-Marcenaro. Se in un lineare la partita di Marcenaro, soprattutto dal punto di vista disciplinare, tollera qualcosa nel primo tempo, Cataldi su macinarà sicuramente punizione e probabilmente anche il giallo. Visto il metro usato nella ripresa, diventa intransigente nella ripresa. La partita non è mai stata complicata. Anche per merito suo, l'ha chiusa fischiando 21 falli con ben 7 cartellini, 1 ogni 3. Assolutamente fuori media. No rigore protesta al Monza, non in maniera clamorosa, chiedendo un fallo di mano di Casale su filtrante di Sensi diretto a Petagna, la dinamica è particolare. Casale ha la mano destra sul braccio sinistro dell'attaccante bianco-rosso ma è quest'ultimo che tocca il pallone con la parte alta della spalla. Netta nessun dubbio sulla punizione che ha portato alla rete dello 0 a 2 da parte della Lazio. Segnata da Milinkovic Savic, donati a gancia Zaccagni sul collo del piede sinistro. Corretta la punizione fischiata da Marcenaro e il cartellino giallo, SPA. Disciplinare come detto. 7 gialli, addirittura 5 in 12, qualcuno, Marlon, ad esempio, poteva risparmialo. Var, pairetto 6 per fortuna di tutti non c'è stato bisogno di lui, solo silent check. Virgola.